Qual è l'ultima cosa che ricordi? Un lampo all'improvviso e poi sono caduto giù. Voi chi siete? Io dovevo essere giustiziato due giorni fa. Io ero un soldato. Sì, anch'io. Corpi speciali. Mi accusò. Loro possono sentirci, chiudarci e vederci. Siamo stati scelti. Scelti per cosa? Questo pianeta è come una riserva di caccia. E noi siamo le prede. Terry! Loro imparano. Si adattano. Sopravvivere. Datti da fare. Si comanda adesso! Come li ammazziamo? In qualunque modo. Stata! Sopravvivere. Grazie a tutti